quali film vedremo? beh se l'America ha creato un lunghissimo filone sia di film che trattano direttamente sia che trattano a latere quindi solo come influsso collaterale l'11 settembre è chiaro che un evento di portata mondiale come una pandemia obbligherà inevitabilmente tutti noi a ripensare le nostre storie e il nostro approccio alle storie in funzione di quello che è accaduto e che ci sta ancora accadendo e chissà per quanto accadrà per esempio in questo momento vedere film e serie tv durante l'isolamento e rendersi conto che sono ambientati in un mondo che non conosce la pandemia crea paradossalmente quasi la sensazione di vedere un film di fantascienza è diventata tutta fantascienza anche quello che prima era realismo e certamente quindi la pandemia continuerà a risuonare nelle storie nella creazione degli autori per anni forse per sempre un parallelo con quello che è stato il neorealismo nella fase del secondo dopoguerra è sicuramente pertinente da questo punto di vista credo che i grandi sceneggiatori del nostro cinema già in questi giorni stiano cominciando a ragionare su come si possono pensare e scrivere storie che andranno fruite nell'ultima parte e poi dopo la fine di questa pandemia la mia la mia idea è che la ripartenza non sarà semplice non sarà semplice né in termini produttivi né in termini di fruizione nelle sale dal punto di vista produttivo ci saranno problemi pratici che saranno quelli di almeno fino a che non si troverà un vaccino insomma delle cure antivirali molto efficaci di contingentare in modo molto sicuro le persone che lavorano alla produzione tecnica di un film e tenerle tutte naturalmente sotto stretto controllo sanitario mi immagino delle troupe più piccole dei set più contenuti e delle regole molto strette da mantenere per le persone che sono su quel set dal punto di vista di dove si vedranno beh anche qui io sono un po perplesso sul fatto che le persone una volta finita l'emergenza saranno disponibili a tornare immediatamente nelle sale cinematografiche sia che vengano date garanzie per quanto riguarda per esempio la distribuzione dei posti o la gestione delle file sia che questo non accada in generale tutto ciò che riguarderà la fruizione collettiva di un evento che sia sportivo che sia teatrale che sia cinematografico penso che ci metterà molto a ripartire un'idea poteva essere quella in una prima fase per esempio di rilanciare i drive in soprattutto in un periodo estivo no in quella maniera l'evento sarebbe collettivo ma allo stesso tempo ciascuno si sentirebbe protetto all'interno di un suo piccolo guscio privato quindi penso che inevitabilmente per quello che riguarda la fruizione ne gioveranno a lungo anche dopo la fine della pandemia tutte quelle che sono le piattaforme di streaming mentre potenzialmente le sale attraverseranno un periodo di difficoltà e di ripensamento del proprio business